Pippo Graffeo, questa sera alle 21 al Museo del Carnevale uno spettacolo, un recital che hai intitolato Ciuciulio. Che cosa significa? Il primo compito che avrà questo spettacolo è cercare di spiegare alla gente certo è una parola tipicamente saccente che un po' avanti con l'età la conosce benissimo, però la dobbiamo spiegare ai giovani e se c'è qualche turista, qualche forestiero ci farà piacere. Ciuciulio è parlare, ssa parlare, parlare. Sono le chiacchiere che si fanno, a volte maligna, a volte biligna, a volte da ridere e sono, se ci rifletti un po', così come rimarcherò, le prime forme di assembramento e sono anche la prima forma rudimentare di Whatsapp perché erano gruppi che insieme parlavano dalla mattina a sera. Anche qualche pettegolezzo. Ma soprattutto il pettegolezzo. Infatti si intitola Ciuciulio, però ci tengo a precisare che come sottotitolo è poesia, cabaret e storie leggere. Ecco, fammelo dire, questo spazio del Museo del Carnavale è la prima sperimentazione di un'iniziativa al pubblico se l'hai fatta tu. Sì. Ed hai avuto un grassissimo riscontro. Sì, sì, è avuto un grande successo. La prima volta che si è aperto a pubblico questo spazio facevo lo spettacolo dal titolo Un uomo fuori dal comune. Non so se ti ricordi. Come no. Era dedicato al nostro vecchiesi sindaco, un grande amico che è venuto lui stesso. Chiaramente lo spettacolo, ironicamente, lo prendeva in giro in un certo senso benevolmente. Lui era il primo spettatore di questo spettacolo. Lo si è alzato alla fine, mi ha abbracciato e mi disse mi sono divertito tantissimo, ti offro un altro spettacolo. Stiamo parlando del sindaco Vito Bono. Vito Bono. Hai cominciato. Ed è la prima esperienza che ho fatto al Museo del Carnavale come attore. Ecco, stasera insieme a te ci saranno anche due musicisti, Michele Bruno e Piero Tirnetta. Che cosa dobbiamo aspettarci? Allora, io ho detto intanto ci dobbiamo aspettarci dopo tanto tempo, dopo questo lungo periodo di astinenza dalle tavole del palcoscenico, dalle astinenza del rapporto col pubblico, col sorriso, dobbiamo aspettarci un po' di sorrisi, un po' di relax. Io ho scritto pure di ancorare bene le dentiere, se ridete tanto, perché noi non siamo responsabili. Poi ci sarà tanta poesia e ci sarà tanta sicilianità. Ecco, la presenza quindi di Piero e del maestro Bruno che insieme a me porteranno quest'area di sicilianità. Ecco, il recital dove proporrai, come hai detto, poesie, cabaret e storia leggere. Hai un po' ripercorso gli anni in cui sei stato autore anche di Carnavale, possiamo dirlo questo? Sì, ci sarà pure. E voi, al Museo del Carnavale una puntatina sul Carnavale, intelligente direi, attenzione. Ti ho detto, toccherò un po' i vari punti dove io mi diverto. A me piace tanto giocare con le parole. Faccio l'attore monologhista, ma il mio sogno principale è quello di scrivere per il teatro. Quindi questa è l'occasione in cui mi posso sbizzarrire nei campi che mi piacciono tanto. E ti assicuro che, secondo me, la differenza fra sorridere, rilassarsi e sognare non è tanto lontana. Perché cercherò di sospendere il mio pubblico, di creare questa interazione, questo rapporto e di parlare pure un po' profondamente di poesia. Gli ingressi saranno contingentati? Come sono organizzati? Sì, allora, l'ingresso intanto è libero e gratuito. Alle 21 vi aspetto tutto il Museo del Carnavale. Naturalmente saranno seguite rigorosamente le norme anti-covid, ci sarà il distanziamento, i posti sono tutti all'aperto, sono distanziati. Vi prego di non creare, appunto, ciusciulio, assembramento pure voi, di venire qualche minuto prima, sistemarsi, sedersi e di vivere con me. Questa è l'esperienza. In bocca al lupo? Crepi il lupo. Grazie.